Intro Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Pokemon Go Premessone Quando ho registrato questo video credevo di stare usufruendo dei vantaggi del Community Day Cosa che poi si è rivelata errata Evidentemente non avevo capito un cazzo di come funzionava l'evento Ed ero convinto che attivando quell'esca che ho attivato poi nel video sarebbe durata fino a morte Ma ahinoi come vedrete dal video non è stato così E quindi Ness ha dato fuori che sono andato semplicemente a attivare un esco E sono stato lì mezz'ora e ho trovato vari Pokemon che vedrete all'interno del video Sapete già come funziona tutto ciò quindi non sto qui a rubarvi altro tempo Io spero che questo video vi piaccia, vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale E direi che possiamo partire con la nostra esca Dunque ragazzi siamo scesi dal palazzo in cui stavamo registrando Quando stiamo qui nel parco dico stiamo qui perché qui di fianco C'ho la gentile concessione dell'esca di oggi Che è un nuovo sponsor del canale Iniziamo a catturare la nostra gente Allora vai spill perfetto Uno Due Non devi ridere se no poi ridò anch'io Ok spill preso perfetto Allora abbiamo qua Cacnea, Nosepass e PG Allora abbiamo l'esca dei poveri Perché siamo in un cazzo di parco Quindi non ci sono strade dove possono suonare i Pokemon Nosepass che come al solito ovviamente quando introdurranno la quarta gen Cioè nel 2000 avanti Cristo Riusciremo ad evolvere Vediamo se innanzitutto riesco a togliere il cursore Ma soprattutto se riesco a catturarlo Molto easy signori Comunque come ho già detto probabilmente nell'intro Che devo registrare domani mattina In questo periodo c'è il community day E quindi c'è una buona probabilità di trovare in giro degli evi E non dei Cacnea Come questo po' comunque andremo a catturare Mannaggia lui Cacnea ha preso I miei metti No però oggi io non sono capace Allora prendiamo anche PG ragazzi Anche se come già detto è inutile prenderlo Perché io penso che uno scolapasta per la bistecca Mi sarebbe più utile Però vabbè Eh non è male una scolapasta per la bistecca Love disc Cioè siamo nell'entroterra toscano Io devo Oh Volbit Vaffanculo Che è inutile come scolapasta per la bistecca Allora vediamo di prendere Volbit Tiro onesto con la Pokeball Perfetto Poi ovviamente questi Pokemon qua saranno i classici Insta liberati appena finito il video Però è magari liberati perché non riesco a catturarlo Non deludermi Oh le E bravo Volbit signori Un altro Cacnea Ma che cazzo c'avete il deserto qua voi in Toscana Mannaggia Cacnea di merda Por p***o non hai visto come mi ha preso la Pokeball Se questo coso qua si azzarda un'altra volta Uscire dalle Pokeball Penso che potrei prendere le sue spine Staccarli uno a uno Fare la nuova corona di Gesù Cristo E creare una nuova reincarnazione Niente da fare Non riusciamo 25.000 eoni per catturare questo coso Ma alla fine ce l'abbiamo fatta Però io voglio degli ivi perché è il community day Quindi gradirei Gradirei per l'appunto un paio di ivi Visto che ci serviranno Allora vediamo di prendere questo zubat qua Che ovviamente ha deciso con le ali di mandarci a caccare Vediamo se riusciamo a prenderlo Sì ci siamo riusciti Perfetto Ok è apparso anche Ciccolita Che sarà il 35esimo che trovo Dopo che nello scorso video A sto punto vaffanculo Sì lo scorso video Grazie Gesù Era fondamentale Grazie Gesù Sì Campanella Premete la campanella Ma che ci stanno le mucche Cioè è partita la processione Ma scusami Arrestate il campanaro Cazzo Fermatelo Qualcuno lo ferma Gli è partito l'ictus Gli è partito il Parkinson Vi prego OMG Ciccolita Ma che reaction non fe Niente ma ho tirato una frustata Appena ho provato a tirare di una megaball Pidge Pidge Uno deve vivere con Pidge Niente da fare Va bene Allora vai Piliamo il 150esimo Pidge Della giornata Perché tipo Primo ho azionato altri 75 moduli Esca in paese In palesa Sì certo Voglio che qualcuno mi faccia un dissing No io non ce la faccio Cromosomi Per quest'oggi ragazzi Abbiamo anche l'ausilio Dell'H2O Che ci servirà Sanker Sanker nell'utilità Guarda che sembra che stia piangendo Questo poco Ma vedete cre No ma mi ha picchiato con i fiori Mi ha picchiato con le foglie Vabbè Basta saltare Basta saltare Ma come tua mamma magari salti no? Adesso non avrei mai pensato Di arrivare a un punto della mia vita A dichiararmi talmente tanto fallito Da dover prendere un Sanker con la Megaball Se non ci riesco con la Megaball Potrei chiudere il canale istantaneamente Oh No 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 C'era c'era un Ekans E' scomparso C'era un Ekans E' scomparso Ekans Un attimo Natu No Natu Ne ho 15 Ma Natu Va bene Perfetto Nel mentre preso Natu Perfetto 3 caramelle Niente di utile All'orizzonte Mettiamolo tra i preferiti Per poi liberarlo Seduto a stanza Oh fermi Fermi Volbit No basta Vi prego Almeno si potesse evolvere Cazzo di Volbit Ne ho 45 Non è talmente tanti Che potrei farci una cazzo di orchestra Niente ma ti altro testa Io pensavo di sclerare di meno A Pokemon Go E invece niente Io sclero di più su Pokemon Go Che nelle Nazloc Tiro con la Pokemon Bene ma ci scommetto Le dita dei piedi Che non entrerà Questo Volbit Nella Pokemon Grazie Dita dei piedi Salve a sto giro Allora proviamo con la Megaball Vediamo di farle fare un giro Oh tiro ottimo con la Megaball Dai io ci voglio credere Io credo nel cuore delle Megaball Ti prego Nel nome di Gesù Cristo Ti vedo Io vado a suonare un cero Vado a suonare un cero Attenzione In Nosepass Cioè avete 4 Pokemon in Toscana Io mi rivolgo a tutti i Toscani E i Toscani qua di fianco a me Avete 4 Pokemon Andate a cagare Preso Sì sì Ma io vorrei un Pokemon Che mi facesse Come nell'ultimo video Io vorrei un Pokemon ragazzi Che mi facesse urlare Cristo Che mi facesse prendere E svegliare tutto il vicinato Zigzagoon No zigzagoon Io non ce la faccio Vedrai come non riuscirò A prenderlo zigzagoon Vedrai Ma ho saltato la Pokemon Ma che cazzo Vai all'Olimpia Di se devi saltare le Pokemon Vai all'Olimpia Di non romperle balle a me Non mi far sclerare più del dovuto Non sarebbe Ok Preso il zigzagoon Dio me la mandi buona Mentre noi non vorremmo fare i pettegoli Ma abbiamo appena radunato Un giocatore di Pokemon Go Dall'altra parte del parchetto Che sta sfruttando Illegalmente La nostra esca Quindi poi andremo a chiedergli Diritti d'autore Paras 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 No no Non ci posso credere Io che suolo Pane Adesso io non ce la posso fare Capito Io Cioè mi deprime Uno vuole fare una cosa Fatta bene In un parco Cazzo fra Martino e Campanaro Fra Martino e Campanaro Io ce l'ho già Paras Cazzo me ne frega C'ho anche Paras Furret Ma perché Bea Furret Cosa fa Cosa per No cosa ha fatto Tu non l'hai visto Cosa ha fatto sto Furret Tu non l'hai visto Cioè è venuto di davanti Cioè io Posso farti la scena Scusami È venuto di davanti Ha fatto un movimento sinuoso Poi mi ha fatto Ed è tornato indietro Non è metterla un po' Che l'aveva scavalcato Tu dimmi no Rivoglio a rallent In questo momento Il movimento di Furret Con una musichetta epocale Sì 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 È arrabbiato È tipo Lars Ulrich Ragazzi Sì 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 Ti pesca come un fabbro È arrabbiatissimo Guardalo Young Furrettino Dai vediamo di prendere sto Brobrio nazionale Ok ce l'abbiamo fatta Perfetto Questa è stata la parte più interessante Del video È stata Furret Che è venuta da applaudire È vero perché Arisca è finito Non direi che è finito il community day Mi cerchi quando finiva il community day Per piacere la mora Oh È apparso spill Oh È apparso growlit Ehi che è successo E mentre noi li prendiamo nel dubbio ragazzi Quando finisce il community day 3 ore in entrambi i giorni Eh Quindi 3 ore Quando l'abbiamo trovato di Vivi E ma sono state 3 ore a caso Cioè Le hanno preso E hanno deciso Allora io non ho capito un cazzo della vita Io non ho capito niente Concludiamo questo video Con questo fantastico fail Cioè io Ho registrato il video del community day Quando non era il community day Ok Questo video è bello Dunque Questo video è stato un fail pazzesco La peggiore sessione di cattura della storia Comunque abbiamo ottenuto Un growlit Due volbit Un cacnea Un nato Un furret Uno spil Un nosepass Un paras Un cacnea Di nuovo Uno zuvat Uno sunkern Zigzag Un pgpg E nosepass Io voglio morire adesso Bene ragazzi Il video si conclude qua Scusatemi questi repentini cambi di postazione Ma fare le intro fuori Sapete che mi vergogno tantissimo Spero che il video vi sia piaciuto E se così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace Un commento e un'iscrizione al canale Se non siete ancora iscritti Mi raccomando passate anche dai social Per rimanere sempre aggiornati Sull'attività al di fuori del canale E premete cosa importantissima La campanella Per ricevere ogni giorno i feed Detto già ragazzi Noi ci becchiamo In un prossimo video This is the end of you After all that we've been through I'd rather wake up next to a stranger than wake up next